All'esame d'ammissione al centro sperimentale ti chiedono qual è il tuo regista di riferimento in genere, è un risposto che avrei voluto avere la filmografia di Steno, anche un po' provocatoriamente nei confronti dell'istituzione centro sperimentale, perché invidio ai registi, non solo a Steno, tutti i registi di quella generazione, Monicelli, Risi, Comencini, la capacità di fare tanta roba è di altissima qualità, forse era anche un altro cinema, c'erano anche altri sceneggiatori, c'erano tanti soprattutto sceneggiatori, io mi immaginavo una carriera da regista quando ho fatto il centro sperimentale, poi in realtà appena uscito ho fatto una carriera da sceneggiatore, diciamo che il primo lavoro economicamente remunerato era da sceneggiatore, poi un lavoro ha tirato l'altro e alla fine le ambizioni da regista erano sempre state messe in secondo piano, perché tutto era iniziato con un iter normale, classico per fare un esordio, cioè cortometraggi, documentari, il saggio del centro sperimentale, tutto predisposto a fare qualcosa di professionale. Il primo lavoro di sceneggiatore è venuto grazie a Rai Fiction che nel 96, sì 95 forse, cercava nuovi lavori, io scrivevo già all'epoca con Marco Martani con cui scrivo tuttora e l'allora dirigente Rai Enzo Tarquini ci commissionò un fantasy in quattro puntate che poi non hanno mai realizzato, perché come spesso accade nel frattempo è cambiata la dirigenza e era, guarda, per sintetizzare una specie di supereroi nel medioevo, cioè erano i fantastici quattro, anzi i fantastici sette in quel caso nel medioevo, si chiamava l'isola dell'arcobaleno, era una roba molto signore degli anelli, molto prima che facesse la versione cinematografica, diciamo un fantaghero per adulti. Io credo che tutti gli autori quando scrivono, scrivono sperando che il loro film venga visto da grandi masse, cioè che è un equivoco insomma, quando poi un autore dice no ho fatto un film di nicchia, in realtà mente sapendo di mentire, perché in cuor suo sperava che quella nicchia si allargasse talmente tanto da accreditarlo come autore ma di massa. Certo ci sono dei generi dove è più semplice cogliere il bersaglio per la massa e dei generi invece dove la strada è più complicata. Da sceneggiatore li ho praticati un po' tutti, per la televisione mi è capitato di scrivere veramente qualsiasi cosa, dalle commedie ai thriller ai neri, per il cinema principalmente la commedia in due declinazioni completamente diverse, cioè il film comico puro, quello che ho scritto per Natale e la commedia sentimentale, quello che ho scritto e poi anche diretto. Io credo che il cinema d'autore debba riconvertirsi un pochino in Italia, cioè debba fare, in Italia e in Europa probabilmente, debba fare un bagno di umiltà perché io non credo molto all'autore completo, cioè non credo che sceneggiatore e regista siano lo stesso mestiere. Io girerei molto volentieri la sceneggiatura di un altro, nell'ultimo anno non ho fatto altro che cercarla, poi me la sono scritta perché non ne trovavo una che mi soddisfacesse. Sulla commedia è un po' difficile trovare dei buoni soggettisti soprattutto, sceneggiatori ce ne stanno diversi. Credo che se gli autori si aprissero a collaborazioni, a intaccare un pochino la loro autorialità, se così si può dire, facendosi sceneggiare semplicemente i loro prodotti da altri, come fa Spielberg e non per questo Spielberg non viene considerato un autore, piuttosto che Ron Howard o i più grandi registi americani, credo che avremo una cinematografia più fiorente. Ma non lo so, in genere questa è una roba che riguarda più che altro la critica, nel senso, io non firmo per esempio i miei film un film D, semplicemente, non perché non li consideri fin d'autore, perché in qualche modo mi ci riconosco completamente nei film che giro, ma semplicemente perché scrivendoli con altre due persone, considerandoli molto un'opera collettiva per l'enorme collaborazione che mi dà il direttore della fotografia a montarsi piuttosto che la montatrice, alla fine firmare un film D non mi è mai sembrato, a meno che veramente non sei Robert Rodriguez, cioè che te lo scrivi, te lo giri, te lo monti, ci fai le musiche, fai l'operatore, qualsiasi cosa, allora in quel caso ha un senso. Io mi sono sempre offerto anche come sceneggiatore ad altri, continuo a farlo. Sono pochi secondo me perché si è creato un buco tra gli anni 60-70 in cui c'erano grandi squadre di sceneggiatori, cioè i Benvenuti de Bernardi, piuttosto che la D'Amico, insomma c'erano grandissimi sceneggiatori in quell'epoca là, Agge Scarpelli ovviamente, dopodiché negli anni 80 nel cinema italiano c'è stato proprio un cambio di direzione in cui spesso era l'attore che si scriveva da solo il film e se lo dirigeva da solo, cioè i grandi successi degli anni 80, diciamo di cinema commerciale in questo caso, sono tutti stati fatti in questa maniera, Verdone, Troisi, Nuti. Nel frattempo gli autori continuavano a fare gli sceneggiatori di se stessi, quindi per un lunghissimo periodo non c'era proprio mercato per gli sceneggiatori e si buttavano in televisione ovviamente la maggior parte degli sceneggiatori e la televisione un po' ti droga dal punto di vista della sceneggiatura, cioè ti cambia il modo di pensare e improvvisamente non sei più un bravo sceneggiatore di cinema, perché in televisione ci sono alcune regole che sono proprio quelle da non seguire al cinema, cioè la commedia, racconterò un paradosso, insomma a me diverse volte mi è capitato di scrivere una cosa per la televisione e leggere le note degli editor e la nota principale era fa troppo ridere, fa troppo ridere, è una roba terribile da incassare per uno sceneggiatore, però è vero, nel senso in televisione si è sviluppato un tipo di commedia blanda e un tipo di thriller blando che deve essere potabile per tutti, questo fa sì che non ci siano grosse risate e che non ci siano grossi momenti di tensione e questo ha fatto, ha un po' omologato gli sceneggiatori negli ultimi vent'anni, tanto che adesso quando leggo una sceneggiatura e c'è un'idea dentro, dico, uh, chi è questo? Produttore cinematografico, qui pochi che ne rimangono, insomma, in qualche modo è alla ricerca di una piccola novità, non di stravolgimenti ovviamente, non si tratta di inventare niente di clamoroso, però ha bisogno di, sa che il suo pubblico se lo deve conquistare davvero è uno dei fattori, è comunque fare dei piccoli spostamenti rispetto al consueto e dare delle piccole novità, in televisione la novità è negativa, per la televisione italiana almeno, questa è la mia esperienza della televisione italiana, io sono un grandissimo fruitore di serie americane, perché poi guardo le serie americane e dico, ma guarda questi, cioè, è quasi una roba speculare, cioè, noi facciamo della televisione anni 50 e loro fanno del cinema anni 50 spesso, però loro fanno della televisione molto all'avanguardia e quindi noi dovremmo fare del cinema molto all'avanguardia, basta un dirigente illuminato su uno dei canali principali che cominci senza fare rivoluzioni però a spostare la nostra fiction, perché se no io non sarò mai uno spettatore, per quanto la scrivo, insomma, ogni tanto della fiction, però non sarò mai uno spettatore, anche di quella che scrivo, ma neanche di quella che mi propinano, perché preferirò sempre Lost, perché mi propongono, o 24, cioè mi propongono schemi narrativi comunque interessanti rispetto al cinema anni 50, cioè la nostra fiction sa, per quanto sia un modello altissimo, di pane, amore e fantasia, cioè quella è la nostra fiction. Lo sceneggiatore in televisione, in Italia almeno non vale niente proprio, mentre in America riesce a fare il produttore esecutivo delle sue opere e coccolarsele, farle crescere bene, perché ha anche i suoi interessi, in televisione è veramente una piccola piedina, cioè scrivi, io spesso ho scritto cose in cui non ho neanche conosciuto il regista che le girava, cioè ma neanche buongiorno e buonasera, non dico scambiato due opinioni su che cosa intendevo quando stavo scrivendo quella determinata cosa, ma proprio neanche sapere che faccia ha.